No, no, non è possibile, non ci posso credere, no! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e oggi vi farò vedere come ottenere il vetro. Iscriviti al canale, attivando anche la campanellina e mi raccomando, lascia anche like al video e come ottenere il vetro? Facile, facile. Allora, come ottenerlo? Basta andare alla cava e ricavare fuori questo quarzo. Sì, questo quarzo. E dovete stare molto attenti a quello che troverete lì, perché basta dare quattro picconati con il piccone di ferro, quindi vi darà un quarzo e tre di pietra. Poi dovete stare attenti alle radiazioni, perché vi possono mettere subito subito KO. E a questo punto basta ottenere quattro elementi, quindi quattro di quarzo. E aspettando un tot di minuti avrete di sicuro il vostro vetro. Il vetro è possibile usarlo sia per la vendita della vostra attività e sia per salire di livello, perché più avanti ve lo chiederà. Ciao, ve lo chiederà di sicuro. Quindi aspettiamo un tot di minuti. Ah, perfetto. Ecco il nostro vetro. Ora basta che lo tiro fuori dalla fornace, perché mi sta occupando spazio, perché devo fare il ferro. Sennò il clan mi picchia. E quindi prendiamo il vetro, mettiamo il carbone e mettiamo il ferro. Ok, adesso vado a venderlo perché sono a corto di matrice, perché non mi bastano 5.855. Quindi lo voglio vendere, sì, a 580, tanto di sicuro se lo compreranno. Dai, hanno comprato 7 bulloni a 500, come non si compreranno il vetro? Vabbè, allora, quindi vi ho già spiegato come fare. Vi ho già detto tutto, come ottenerlo. E vi ho detto anche che serviranno 4 di quarzo per ricavare fuori il vetro e andare alla cava. Quindi alla cava non è che si trova solamente il quarzo, è zulfo, ferro, paxite, tutto. Quindi, iscriviti al canale. Lascia like. Commenta se hai bisogno di qualche aiuto. Ehi tu, amico, compra, dai. Ragazzi, questo vuole comprare. Ehi, questo vuole comprare, ragazzi. Questo vuole comprare. Dai, compra il vetro. Mi dispiace, niente. Niente, mi dispiace, niente cuoio. No. Il cuoio è caro per me, quindi... Addios. Ciao, addios. Quindi, alla prossima! Ciao, addio. Ciao, addio. Ciao, badio. Ciao, addio. Ciao, addio. Grazie a tutti